Un saluto amici del Centro Meteo Italiano, flusso atlantico in grande spolvero sul Mediterraneo con una serie di perturbazioni in transito sull'Italia nel corso dei prossimi giorni. Diamo però nel dettaglio le previsioni meteo per sabato 3 marzo. Al mattino cieli nuvolosi su gran parte della penisola con piogge sparse e neve ancora a bassa quota al nord-ovest, oltre i 500 metri sulle Alpi orientali e oltre i 1600 sull'Appennino. Fenomeni localmente intensi al pomeriggio tra Liguria e Toscana e tra Campania e Calabria piogge sparsi altrove con neve oltre i 5-600 metri sulle Alpi e oltre i 1400-1700 sull'Appennino. In serata è notata residui fenomeni che si concentrano al centro-sud e sull'alto Adriatico. Nieve fino a 1000-1400 metri sull'Appennino centro-settentrionale più asciutto ma con nuvolosità irregolare altrove. Temperature in aumento al nord e in calo al centro-sud sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo italiano.